Sì, siamo state molto brave, secondo me loro non sono state la solita Turchia che siamo abituate a scontrare, quindi meglio per noi, ma noi sicuramente sappiamo giocare partite con il pubblico a nostro sfavore, e si è visto. Si respirava un'aria molto tranquilla oggi, sinceramente, dal mio punto di vista, quindi questo ti porta a essere molto lucida anche nei momenti in cui magari loro sono state avanti. Quindi è bene così, sono contenta e spero che la squadra poi possa stare anche tranquilla domani. Finale è sempre una finale, loro le abbiamo già battute in Brasilia, ma questo ovviamente non vuol dire niente, dobbiamo tenerlo ben presente. È una squadra che gioca molto veloce, dovremmo sicuramente aggredirle dal punto di vista della battuta e poi evitare il loro muro che Carol ne fa abbastanza.